Giovanni De Simone è a termine di questa nuova bella esperienza qui a Coverciano, oggi sei partito titolare? Sì, ho giocato per un minuto, come sempre ho giocato bene, però è finita tra uno per loro, ci abbiamo messo tutta e niente, ho giocato molto bene sia noi che loro, è stata una bella partita. Per quanto riguarda la tua prestazione, insomma, sei entrato anche in alcune azioni pericolose? Sì, ho spinto sia in avanti che in difesa e niente, ho giocato bene.